Due Writer sono stati scoperti, colti in flagrante dalla polizia di Como, mentre imbrattavano un treno. Sono scappati di corsa, ma gli agenti sono riusciti a raggiungerne uno dei due e a denunciarlo. L'episodio risale alla notte scorsa, attorno alla 1.20. Due volanti della questura di Como stanno perlustrando la stazione di San Giovanni, uno scalo spesso al centro delle cronache per vari episodi di criminalità. Sulla banchina tra il secondo e il terzo binario, gli agenti notano due persone vestite di nero che stanno imbrattando un treno con le bombolette spray. I due Writer si accorgono dei poliziotti e iniziano a scappare, tentando una pericolosa fuga sui binari in direzione Milano. Per cercare di seminare gli agenti, gli imbrattatori si dividono. Uno riesce a scappare, l'altro viene rintracciato e raggiunto dalla polizia. Ha il fiato corto e indossa un impermeabile pieno di macchie di vernice, eppure cerca di negare l'evidenza. Mi sono perso, non sono di Como e non so nulla, avrebbe detto ai poliziotti il ragazzo. Ma la storia non regge, perché gli agenti gli trovano addosso una sorta di kit da Writer, guanto di lattice, per non far cadere la vernice sulle mani, e quattro erogatori per bombolette, oltre a un guanto di nylon e a un mazzo di chiavi. Tutto viene sequestrato e il ragazzo, senza documenti, si sente alle strette e ammette quindi di essere una delle due persone che poco prima stava imbrattando il treno. Non dice però una parola sul suo compare, l'altro Writer che con lui stava firmando il treno, e assicura di non conoscerlo. Il ragazzo, classe 1994, 20 anni, viene poi accompagnato in questura e denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso.